Il meccanismo scuro Il meccanismo scuro Il meccanismo scuro Il meccanismo scuro Ed è proprio le caratteristiche personali mie e di Lorenzo che in un certo senso si ripercuotono in quello che vive il personaggio. Quello che io posso notare Lorenzo lo nota in maniera diversa e quindi i personaggi vivono la stessa storia in maniera completamente non divergente ma diversa pur scorrendo attraverso questi filoni paralleli. Possiamo quindi dire alla fine che quella che era in realtà una sfida contro noi stessi della scrittura a quattro mani si è rivelata in realtà un punto di forza che contraddistingue K rispetto a buona parte dei romanzi del suo genere. Assolutamente perché sviluppandosi su questo binario tutto il racconto ha assunto per noi un interesse particolare. Questo perché il tutto avviene appunto da due prospettive completamente diverse due prospettive che però vivono la stessa situazione estrema ed è questa appunto la cosa che si cela dietro alla lettera K ovvero un gioco. Ispirati da qualche fatto di cronaca nel lontano 2003 appunto ci ispirammo appunto a questi avvenimenti per creare quello che potrebbe sembrare un gioco di ruolo inizialmente dalle prime pagine del libro è questa l'impressione. Pian piano però ci si rende conto che c'è qualcosa di più che si cela dietro questo semplice gioco che coinvolge alcuni ragazzi appunto iscritti in questa università. Un gioco estremo che poi si rivelerà in qualche modo orientato a danneggiare qualcuno, a danneggiare qualcuno in modo pesante. E quindi insomma una situazione particolare, una situazione estrema e la cosa che noi abbiamo cercato di perseguire proprio al massimo nelle nostre capacità è di creare una situazione per il lettore di continua domanda e quindi di indurre chi si scontra con K a chiedersi che cosa avrebbe fatto lui se fosse stato nei panni di Alex o se fosse stato nei panni di Lisa.